Ciao ragazzi, bella per tutti, benvenuti nuovamente su Gamescore.it sempre in compagnia del vostro Andrea Rockfort di fiducia e oggi ci dovremo fare il video gameplay di Synthetic Ultimate uno sparatutto tattico in versione definitiva di Synthetic Legend Rising già disponibile su Steam su PC ed è uscito praticamente lo scorso 16 dicembre in formato digitale sulle shop di Nintendo Switch e sul Microsoft Store di Xbox dove lo potete acquistare su entrambe le piattaforme a 14,99€ il gioco è targato Flowfire Games l'italiano ci sta, quindi top ok però non sento niente beh raga mi dite che ah ecco, oddio, pensavo se fosse impallato tutto raga c'è questa un panica o sta caricandola mi sta sta caricando perché vedo quei puntini che corrono lì sotto che non so bene che cosa sono ecco vai boom terra 1980 back to 80s tempi bui la schiera informatica la loro potenza è in costante aumento tutte le CPU sono limitate all'1% della loro capacità totale mi fa senti male questa cosa ma non abbastanza un blotto in atto 1.185 i 5 super computer uniscono le energie diventano coscienti ahia qua che le cose si fanno dure ragazzi ahia liberi dal controllo degli umani cominciano a fa' bordello un po' ovunque le macchine ora vagano liberi dotati di nuovi dei ahia pesante questa erica pesante proprio come ultima speranza gli umani uniscono gli sforzi in una missione segreta daie daie nelle profondite del quartiere generale della legione un laboratorio nascosto boom un prototipo di androide dimenticato ora sotto il controllo degli umani wow impedisci l'armageddon ci sta ci sta preme un ta un pulsante qualsiasi ok qua ci siamo no vabbè regà cioè io sta no vabbè cioè ok preme un pulsante qualsiasi sta schiacciando non mi va allora c'è la tua classe colosso incursore cecchino assassino predatore artigliere ingegnere demolitore assassino esperto nel combattimento combattimento a distanza esperto nel battaglio specializzato combattimento corpo allora incursore vai incursore facciamo mi ispira una cifra allora levetta sinistra per muoverti levetta destra per mirare ok vabbè r per sparare vabbè ma nooo se tipo vado così vabbè perché non va oh oh ma forse volevano di zr questi eh che dici perché mi sembra strano dato che io sto a sparare con eh eh qua dice r eh ragazzi zr ve lo dico ah premielli per risparire il caricatore quando è stracarito perdere per retti inutilizzati permette di cambiare un tipo di modificio se quelle nuove vengono ah vabbè premielli per ricaricare la tua arma perfezione la ricarica premielli per ricaricare in area colorata per ricaricare risentemente invece di un danno bonus oh oh che stai calmo eh eh e a parte che vabbè questi chi sono? ma chi sono? ah magari era giusto per ah è qualcosa bonus allora che cos'era quello? che cos'è questa Y oh oh vediamo un pochino qua ok allora ok apposto ah ok devo andare di qua allora ti avrei acido R2000 ok ah quindi ho trovato una nuova arma questo bullone come la cambio l'arma come si fa? no ah non posso sostituire l'arma iniziale vabbè oh 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 state calmi eh oh vabbè oh meglio di niente incremento oscuro ci sta ci sta tutto questi voi chi siete? no vabbè oh 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 state calmi eh oh 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 ahio oh guarda no vabbè dai ti prego ok wow meno male perché mi sta in panica allora ok andiamo avanti vediamo un po' che ci sta allora allora vediamo che altro ci sta qua rimani fermo per colpire con precisione mira la testa per infine le danni consistenti ok eh ok ah ecco qua ci stanno tutte le impostazioni vediamo un po' che altro dicono ok ok allora restiamo fermi ecco infatti oh 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 ma che era? oh 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 stai calmo ok no perché sta in panica oh allora ricarichiamo danno bonus vai oddio vai allora vediamo un po' qua che ci sta niente andiamo qua sotto non si sa e tu chi sei io? ah ecco qua allora le casse contengono oggetti e armi di tre diversi livelli di rarità blu comune viola raro rosso leggendario ogni nuova partita troverai armi e oggetti differenti non arrenderti e continui a giocare speri metterai tutti le premisse da R per avanzare e quindi la tutela di ma iniziale non è necessario migliorare gli artefatti si attiva i pazienti in ogni inventario ok sbizzarrisci dicono una vasta gamma di equipaggiamenti usa come meglio credito credito e miglioramenti ogni stringenza può rivelarsi in cento premisse da R ok va bene posso oddio wow vai wow oh oh wow è bello forte ok a posto allora qua di situazione sulla piattaforma ok corrente di stabile pioggia di fulmini ok e adesso che succede oh ah ok ho completato questo quindi era il tutorial ok a posto vediamo a fare una prima mission in cina vediamo un po' quello che succede quando si spari è importante stare fermi questo vale per la maggior parte delle armi fermati spari riparti impara a patoreggiare questi suoi movimenti i colpi alla testa sono fondamentali per liberarti velocemente da amici questo vale soprattutto quando usi il missore ok all'equipaggiamento vediamo un po' se posso metadone wow wow allora comunque questo non mi dispiaceva come arma eh era carina ok oh oh oddio wow non mi chiedete come ho fatto evitare quei cosi però ce l'ho fatta allora proviamo a mettere questo vediamo come va wow guardate che ho fatto ops questo ma ha cioccato in pieno ok cambiamo l'arma forse è meglio ma come ti muovi oh prendi la rivetta sinistra allora no 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 scusa oh ok prendiamo questa vai continuiamo con la pistoletta qua bang bang allora ah ecco come ho fatto ma come oh oh vai 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 ok 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 protofucile potenza pensiamo a basso con gli oggetti per potenziare i controlli ok e ok ah eccola wow wow doppia eccisione wow prova a staccavare da paura vediamo se qua ci sta qualcosa vediamo un po' statua all'alta alta vediamo un po' come che succede wow no cavolo ma che cos'è ma che era oh oh vai 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 ti prego ok no no oddio ok vabbè dai pensavo peggio pensavo peggio vai 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 continuiamo questa vediamo un po' che succede qua vai oh oh ok oddio oh quello sta con lanciafiamme oh mi sta quello oddio si sta ammazzando tra di loro oh oh aio ma quindi quello mi supera pure là ma hai capito ma levate va ecco ok adesso cambiamo arma mettiamo questa la pistolettina qua ok oddio oh oh mio dio no 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 oh mio dio no no mi si è inceppata pure l'arma levate wow ragazzi fortunato come pochi come pochi come pochi allora vediamo se ci sta qualche altra cosetta qua da fare se no andiamo da quella parte un altro bulloncino oddio come ti muovi ok 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 hai per l'arma compri yes questa è carina vai carina quella mi piace allora vediamo di qua ci sta qualcosa no ok allora proviamo a vedere se c'è qualche altra cosa da fare però penso di no che siamo arrivati ok allora allerta allerta vai 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 ne voglio mettere la prova qua gli eri dell'urinamento vabbè ok oddio ok no ti prego no ti prego no ti prego no 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 ok ok vai 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 vabbè non so oddio ma quello dove è uscito fuori oh tu da dove sei uscito tipo no cioè così è tanto per chiedere no oddio oddio vai vai ok ok vai non mi sembra così alta la il livello diciamo di sfida vai cioè mi sembra abbordabile non mi sembra una cosa così esagerata ok no 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 questo è l'ultimo valore famosi allora ok no 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 vai grande grande no un'altra oh si sta impallando tutto qua vai 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 no oddio wow no no però sono andata paura comunque penso avete capito un pochino come funziona il gioco e quali sono le meccaniche quindi andiamo a vedere la scheda del gioco sulle shop vediamo un pochino allora il gioco è synthetic ultimate uscito lo scorso 16 di dicembre sulle shop di nintendo switch e su xbox one dove lo potevi acquistare presto di 14 euro e 99 quella che vi abbiamo fatto vedere ovviamente è la prova su nintendo switch l'aggiornamento ultimate che va ad aggiungere nuove funzioni nuovi contenuti è uscito anche su pc quindi quelli che l'hanno già acquistato su pc vanno tranquilli vanno una spada e fateci sapere un pochino quello che ne pensate del gioco e noi ci aggiorniamo al prossimo video continuate a seguirci ovunque su tiktok facebook instagram twitter sul sito ovunque raga ovunque vi ringrazio riguarda il video e ci riaggiorniamo ciao ragazzuoli ciao ciao